Il mio personaggio Carolina è molto complesso perché ricco di diverse sfumature. È un personaggio che sa essere divertente ma allo stesso tempo è una ragazza innamorata che comunque vive questa sorta di tormento d'amore per questo matrimonio segreto, appunto quello con Paolino che resta celato fino alla fine dell'opera. Uno dei momenti più toccanti dell'opera credo che sia quello del recitativo accompagnato di Carolina nel secondo atto e credo che con questo si arrivi ad un apice di momento drammatico dal punto di vista emotivo del personaggio che richiede comunque un grande equilibrio tra l'arte scenica, quindi il sapersi muovere ed interpretare sulla scena e la tecnica e lo stile. Grazie a tutti.